Si tratta di un progetto molto importante di realizzazione di una rete diffusa su tutto il territorio regionale che consenta l'accesso gratuito senza fili, wireless, ad internet. Si tratta di un grande tema di competitività nel mondo del turismo perché soprattutto i viaggiatori stranieri utilizzano la rete per informarsi, per avere accoglienza rispetto al territorio in cui si trovano. Hanno difficoltà, come capita anche a noi quando andiamo all'estero per accedere con le proprie telefonie alla rete internet e noi garantiremo in tutto il territorio regionale, nelle aree pubbliche, la possibilità di accedere invece gratuitamente con un'unica password su tutta la regione alla rete internet. Costruiremo la rete utilizzando già le reti wifi dei comuni che hanno già questo servizio, federandole all'interno della rete regionale e espanderemo la rete installando in accordo con i comuni degli hotspot, cioè i punti di accesso a internet attraverso il wifi, in quelle aree del territorio comunale dove non c'è ovviamente ancora la presenza del wifi. Così come stiamo lavorando con tutte le porte di accesso alla Liguria, quindi con le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime, l'aeroporto, le stazioni di servizio della rete autostradale, per fare in modo che tutte le aree di accesso con tutti i mezzi alla Liguria abbiano il libero accesso a wifi, sempre con un'unica password e con un'unica modalità di accretto. Ma come si diceva anche in conferenza a Stapa, l'accesso alla rete libero non è soltanto per i turisti, è anche per i residenti. Questo consentirà ai comuni, come anche alla Regione, di offrire attraverso l'accesso gratuito tutti i servizi online che normalmente si possono offrire. Così come il primo punto di intervento, come giustamente ha detto il nostro Presidente, sarà creare l'accesso wifi gratuito e libero presso la rete ospedaliera per consentire ovviamente anche in questo caso di dare una risposta non economica, non di tipo turistico ma di tipo sociale ed è una cosa di cui ne vado particolarmente contento e orgoglioso a livello personale perché da sempre vo predicando che il turismo è un sistema economico, è un'economia importante ma ha la capacità come accade in tutti i paesi del mondo dove questo concetto viene percepito e concepito in cui la ci stiamo cominciando a farlo, è una chiave di volta per lo sviluppo e per il trascinamento di tutto il settore socio-economico di un territorio dove il turismo esiste, vive ed è competitivo, è il vero ambasciatore nel mondo della Ligua.